Assessore Cremonese, Corso Vittorio, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ci sono commercianti favorevoli, altri meno. Qual è la situazione e qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale e cosa ne sarà di Corso Vittorio Emanuele? In realtà io non riesco ancora a comprendere la polemica che è sorta attorno a Corso Vittorio Emanuele perché non c'è niente di diverso che l'amministrazione abbia deciso per quella strada. In realtà l'amministrazione comunale ha ricevuto una proposta di due esercenti in particolare che chiedevano la chiusura di un tratto di strada per organizzare eventi con lo scopo di portare più gente su un corso che a loro dire in questo momento soffre un po' di presenze. L'amministrazione che cosa ha fatto? Ha recepito questa domanda come fa per tutte le domande che arrivano nelle nostre segreterie, ha fatto una riunione tecnica per capire innanzitutto la fattibilità e ha detto, già annunciato, che farà una riunione perché sia la maggioranza, sia le associazioni di categoria e sia i commercianti devono essere d'accordo su un'ipotesi di questo tipo. Non si parla assolutamente di pedonalizzazione ma nel caso di una possibilità di dare in alcuni giorni della settimana e dopo l'orario di chiusura dei negozi, quindi nessuno avrebbe alcun tipo di problemi, la possibilità di chiudere dei pezzi di strada per fare dei concerti, degli eventi, proprio per portare gente su Corso Vittorio. Tra l'altro voglio ricordare che negli anni passati quasi tutti i commercianti di Corso Vittorio hanno chiesto a me e al sindaco di organizzare eventi proprio su quel luogo, in determinati giorni della settimana e anche in determinati orari, quindi davvero non riesco a capire com'è nata questa polemica. Resteranno ovviamente le chiusure nei giorni di festa di Corso Vittorio come è stato fino ad oggi? Sì, sì, assolutamente tutto resterà come prima, l'amministrazione non ha fatto alcun provvedimento, se non prendere in considerazione una richiesta che è pervenuta legittima da parte degli esercenti alla quale l'amministrazione in maniera seria, come sempre fa, sta verificando innanzitutto la fattibilità, perché ci vuole innanzitutto la fattibilità tecnica. Poi chiaramente si dovrà verificare il percorso politico-amministrativo, cioè verificare se la maggioranza è d'accordo a un'ipotesi per organizzare eventi su una strada che è comunque una strada molto importante e poi le associazioni di categoria che sono fondamentali chiaramente in queste decisioni per le nostre scelte. Ad oggi quindi non c'è assolutamente nulla e nel caso ci fosse non si può parlare di pedonalizzazione, ma in qualche giorno della settimana organizzare degli eventi su Corso Vittorio con lo scopo di portare tanta gente in quel luogo.